Ciao ragazzi, bentornati nel canale ed in questo nuovo video. Io mi chiamo Michele e questo è il canale La Meccanica. Nel video di oggi vi faccio vedere una procedura che è già presente all'interno del canale che ho caricato anche tra l'altro da poco. È una procedura che viene utilizzata per avviare il veicolo in fase di emergenza su impianti a GPL. Vi voglio far vedere che la stessa procedura funziona anche su un impianto di diversa marca. In questo caso siamo su Subaru Outback con montato un impianto BRC. Prima di farvi vedere la procedura vi ricordo se ancora non l'avete fatto di andare ad iscrivervi al canale attivando la campanella perché solo così potete rimanere aggiornati sulle novità e i nuovi video in uscita nel canale. E se questo video vi è stato utile vi raccomando un bel like che è sempre ben gradito. Iniziamo, andiamo! Come prima cosa andiamo a girare il quadro. In questo caso ci basterà andare a premere due volte il pulsante di accensione e qui troviamo il nostro commutatore a GPL. Dobbiamo andarlo a tenere premuto 5 secondi. Il led principale da rosso passerà a verde. In questo caso possiamo adesso mettere in moto. Attenzione, sono consentiti solamente 5 tentativi di avviamento di emergenza. Una volta superati si dovrà utilizzare una diagnosi per sbloccare la funzione di azzeramento del contattore selezionando la regolazione cancella contattore avviamenti. Ed eccoci qui ragazzi a procedura effettuata. Come avete potuto vedere è pari pari alla procedura che ho utilizzato per gli impianti landi. Vi ricordo prima di salutarci se ancora non l'avete fatto di andare ad iscrivervi, attivare la campanella e lasciare un like. E mi raccomando se volete seguirmi anche negli altri social Facebook, Instagram e TikTok potete farlo, vi lascerò il link sotto in descrizione. Per questo veloce video è tutto. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!